Vorrei cominciare innanzitutto con una domanda abbastanza generica e chiederle in cosa consiste il progetto La Musica del Rinascimento, una mostra in dieci oggetti e quindi come è nata la collaborazione con Rai Radio Terra. Allora, il programma radiofonico La Musica del Rinascimento, una mostra in dieci oggetti nasce come spin-off da un libro musicologico che sto curando con un musicologo, un collega dell'Università di Sheffield in Inghilterra, il suo nome è Tim Shepard e il libro si chiama The Museum of Renaissance Music, A History in 100 Objects quindi il Museo della Musica del Rinascimento, una storia in cento oggetti. Sono cento gli oggetti di cui ci occupiamo nel libro, da questo museo in cento oggetti abbiamo tirato fuori dieci oggetti che abbiamo portato in questa mostra virtuale per Radio 3. E questo programma è nato come proposta che io ho fatto alla redazione di Radio 3, è piaciuta, abbiamo selezionato prima quindici oggetti poi si sono orientati su una trasmissione più breve rispetto alle quindici puntate, quindi solo dieci oggetti che abbiamo selezionato tra quelli che ci sembravano maggiormente radiogenici, ecco, da proporre ad un pubblico che ascolta delle puntate e non sta leggendo un libro con delle immagini. A riguardo volevo chiederle perché tra tutte le epoche è stato scelto proprio il Rinascimento? Allora, la risposta si colloca su due piani, banalmente perché Tim Shepard ed io siamo due studiosi di musica rinascimentale quindi questo ha certamente caratterizzato il nostro interesse nei confronti di questo momento storico ma non è un caso che noi come studiosi di musica rinascimentale abbiamo pensato di raccontare la musica del Rinascimento partendo dalla sua materialità, cioè dagli oggetti, da qualcosa che si vede, si tocca, dove si può abitare, dove si può andare ci sono anche edifici, ecco, la definizione di oggetto è una definizione molto flessibile in questo libro perché proprio in questo momento storico la musica, che è sempre presente in tutte le culture umane ovviamente del passato e anche del presente, però conosce una presenza ancora maggiore, ancora più esibita la troviamo veramente dappertutto, su su pellettili, su oggetti, dipinta in molte scene non dimentichiamo che questo è anche il momento in cui, nei primi del Cinquecento testimoniamo per la prima volta la presenza di editoria di musica a stampa quindi musica a stampa che viene pubblicata, diffusa, venduta, consumata e questo testimonia una grande interesse anche nei confronti della musica che si legge, che si scrive quindi che si fa leggendola ma il Rinascimento lo concepiamo in maniera un po' più ricca cioè non solo il periodo storico che grossomodo mettiamo tra il 1400 e il 1600 i due anni come limiti, ma anche il Rinascimento così come ricordato, immaginato o ricostruito in epoche successive, quindi nel corso del diciottesimo e soprattutto del diciannovesimo e ventesimo secolo tra i vari oggetti che ci sono nel libro ma che ci sono anche nella mostra, per esempio c'è l'ospezione di un film degli anni settanta, ad esempio, nel libro poi si parla anche di cd o di figurine legate a opere liriche che si occupano di storie cinquecentesche per esempio, quindi con una doppia rimediazione del Rinascimento e così via riguardo l'importanza del Rinascimento perché e come pensa che il Rinascimento si dimostri attuale? Allora, perché ci fa confrontare con degli usi della musica degli oggetti che hanno in qualche modo, e sono tanti, significato musicale o l'hanno avuto che possono essere sia simili ai nostri oppure radicalmente diversi e questa diversità ci aiuta a riflettere molto sul nostro rapporto con la musica e con gli oggetti che sono in qualche modo legati alla musica oggi quindi potrà sembrare un paradosso quindi, no? proprio le cose più diverse ci fanno ragionare, ci aiutano a riflettere e a pensare sul nostro modo di avere la musica presente nelle nostre vite, nei nostri spazi, nelle nostre relazioni e quindi anche contenute nei nostri oggetti o suggerita dai nostri oggetti Sempre riguardo il tema quindi dell'attualità pensa che una mostra musicale si possa fare anche con gli oggetti che si trovano come dire, al giorno d'oggi, che quindi sono per lo più digitali e per questo considerati un po' più impersonali? Allora, sul digitale intendiamoci questa mostra radiofonica senza il digitale non avremmo potuto farla probabilmente questo perché abbiamo accesso a tutta una quantità di materiali, di dati che sono presenti anche soltanto come immagini che possiamo recuperare facilmente sia attraverso il sito di Radio 3 quando poi il ciclo di trasmissioni sarà finito ma anche semplicemente digitando su un motore di ricerca l'oggetto di cui si sta parlando possiamo trovarne varie raffigurazioni e quindi chiaramente per noi questo è uno strumento molto utile quindi si immagini una trasmissione del genere fatta 30 anni fa ecco, quindi sarebbe stata quasi impensabile all'epoca e poi perché comunque grazie alla rete, al digitale noi abbiamo accesso a tutta una serie di file musicali che sono musiche che sono servite per confezionare la trasmissione che rappresentano anche oggetto di analisi, di discussione all'interno delle varie puntate o semplicemente funzionano in qualche modo da colonna sonora quindi che ci porta ad un certo tipo di ambiente ad un certo tipo di sonorità ma d'altra parte però non sarebbe pensabile una mostra del genere sulla materialità se non in un momento in cui la materialità comunque viene messa in discussione ed ecco che il digitale rientra da un altro, dalla finestra quindi nel momento in cui tutto diventa virtuale stiamo scoprendo l'interesse degli oggetti veri e propri in origine questo programma avremmo dovuto registrarlo perché non va in diretta dal 23 al 25 marzo del 2020 sappiamo tutti che sono stati proprio questi i giorni della prima chiusura del momento, forse uno dei momenti più difficili della crisi dell'emergenza sanitaria quindi ciò non è stato possibile abbiamo dovuto rimandare tutto all'estate quando però non si poteva prevedere la presenza oltre che di me anche di Tim Shepard cioè l'altro curatore della trasmissione perché c'erano problemi con i voli con gli spostamenti e con la presenza di persone esterne negli studi della RAI quindi di volta in volta io sono la voce delle studiose e degli studiosi che hanno scritto materialmente i testi come guide a questa mostra virtuale io e Tim Shepard siamo comunque in alcune puntate le guide grazie a tutti